salve a tutti salve a tutti e benvenuti in un nuovo video a smr oggi vi farò un po' di inaudible sounds e anche delle parole tricurose la prima parola tricur 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 e rilassarsi 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 la prossima parola è trottola poi abbiamo la prossima parola è febbraio rilassati, rilassati segui la mia voce, ascolta la mia voce e rilassati, rilassati, rilassati rilassati, rilassati, rilassati la parola è trentotto 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 e rilassa l'ultima parola di oggi è dormire 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 concentrati sulla mia voce, concentrati, 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 concentrati bene, ora passiamo all'inaudible oggi vi leggerò questo libro cominciamo subito e 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 bene ragazzi per oggi è tutto spero che il video vi abbia rilassato e che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video 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 video